Ma partendo proprio dall'articolo dell'Espresso, io penso che si debba prendere quell'articolo come un pungolo, nel senso che forse questo è il primo pungolo che viene dato a un partito che se si fa trovare a discutere delle sue cose, delle sue priorità e non a quelle dei cittadini, i cittadini sono i primi a dargli dei segnali. Ieri, quando veniva eletto come del resto ampiamente annunciato segretario regionale del Partito Democratico, a Cristiano Schauri è toccato leggere un'inchiesta sull'Espresso intitolata Il Partito che non c'è, tra parentesi più. Pure, secondo Schauri, la realtà del Friuli Venezia Giulia è leggermente diversa, in virtù anche di un atteggiamento diverso da parte dei vertici. Noi abbiamo avuto un relativo calo di iscritti nell'ultimo periodo, non sicuramente drammatico. In queste zone abbiamo provato a fare un percorso diverso, abbiamo una comunità che abbiamo verificato anche nella fase congressuale, perché il congresso noi l'abbiamo fatto, solo che l'abbiamo fatto discutendo sui territori invece che farsi la guerra uno contro l'altro. Abbiamo verificato di avere una comunità e bisogna ripartire da quella comunità. Un atteggiamento che ha consentito al PD di risolvere la questione segreteria in relativa tranquillità, senza ulteriori spargimenti di sangue. Un segnale importante che riteniamo di mandare a livello nazionale e a tutto il nostro partito, perché di fronte a questo governo giallo-verdi a livello nazionale e di centro-destra a livello regionale, crediamo non ci sia tempo da perdere e non possiamo accettare ovviamente che i cittadini ci dicano che stiamo facendo il nostro congresso mentre c'è necessità di creare un'alternativa. Alla fine dunque ragiona il neosegretario regionale un atteggiamento che non annulla le differenze, ma le convoglia verso una soluzione la più ottimale possibile. Se tu provi a mettere prima le cose che uniscono, evidentemente riesci a evitare di dividersi e ovviamente a far sì che i nostri congressi durino tempi che non sono più consoni con quelli che i cittadini si aspettano. Questo è il dato vero.